Centro cittadino invaso dai topi, sono numerose le segnalazioni giunte a Tucronista e Toteleliberta.tv circa la fastidiosa presenza. Abbiamo interpellato a riguardo l'assessore all'ambiente, Giorgio Cisini. Il Comune è impegnato con un'azienda che si è aggiudicato una ditta, che si è aggiudicato un appalto. Sul territorio, soprattutto nel centro storico, sono presenti più di 250 esche per la cattura dei ratti. Facciamo 12 interventi l'anno per quanto riguarda alcune zone, il mercato ortofrutticolo, il mercato casali, il mercato di via Alberici, in alcune zone strategiche e poi interveniamo a richiesta dei cittadini, appunto disponendo queste trappole sostanzialmente con le esche per cercare di rimuovere il problema. L'anno scorso sono stati effettuati circa 40 interventi, sempre su richiesta dei residenti, quindi qualora si ponesse il problema a contattare evidentemente il QUIC, ci proviene la segnalazione, facciamo intervenire la ditta.